Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. L'orso è un mammifero appartenente alla famiglia degli ursidi. Questi animali si distinguono per la loro grande taglia, il corpo massiccio, le zampe potenti, un muso grande e occhi relativamente piccoli. Gli orsi sono noti per la loro versatilità alimentare, essendo capaci di adattarsi a diverse diete, e vivono in vari habitat in tutto il mondo. Possiedono un senso dell'olfatto estremamente sviluppato, che utilizzano per trovare cibo. Gli orsi variano notevolmente in termini di dimensioni e peso. La loro lunghezza può variare da 150 a 250 cm, mentre il peso oscilla tra i 100 e i 450 kg. La durata della vita di un orso può raggiungere i 40 anni. Queste differenze dipendono in gran parte dal loro ambiente, dieta e specie specifica. Gli orsi possono presentare variazioni di colore del pelame che vanno dal nero al marrone, fino al bianco artico. Gli orsi sono onnivori e la loro dieta può includere una vasta gamma di alimenti. Piante, miele, frutta, noci, insetti, pesci e carne, tra gli altri. Questa varietà nella dieta riflette la loro capacità di adattarsi a diversi ambienti e disponibilità di cibo. Anche se non molti predatori attaccano gli orsi adulti a causa della loro dimensione e forza, i cuccioli possono cadere preda di lupi e grandi felini. L'uomo può rappresentare una minaccia per gli orsi, sia attraverso la caccia sia con la distruzione del loro habitat. Gli orsi sono diffusi in molti luoghi del mondo, abitando ambienti che variano dalle foreste temperate e tropicali alle regioni artiche, dalle montagne alle tundre, in alcuni casi vicino a corsi d'acqua. La loro presenza è segnalata nelle Americhe, in Europa, in Asia e in parti dell'Artico. L'habitat specifico può variare notevolmente in base alla specie, con alcune che preferiscono le foreste dense per la copertura e altre che si adattano alle zone aperte della tundra o alle regioni montuose per trovare cibo e rifugio. L'hoomo può variare notevolmente in base alla zona di solitare, in Italia e in realtà che si tratta di, oppure, in realtà si tratta di un'ottima che si tratta di un'ottima Grazie a tutti. Grazie a tutti.